Oggi si vola nella bellissima Tunisia, viaggio che ho fatto qualche anno fa e più precisamente a Cartagine, una delle più potenti e importanti città del mondo antico, oggi dichiarata patrimonio dell'UNESCO. La posizione strategica permise ai cartaginesi di avere un ruolo di primo piano nel controllo marittimo del Mediterraneo. Ne fa testimonianza il caratteristico porto, capolavoro assoluto di ingegneria, anche se oggi ne rimane ben poco. Il sito suscita stupore e fascino agli occhi del viaggiatore, visto solo 16 km dalla capitale Tunisia. E se vi trovate a Cartagine, è d'obbligo una visita nel piccolo paesino di Sidi Boussaïd, passeggiando nel bellissimo centro storico, completamente dipinto di bianco e blu. Sembra quasi di non essere in Tunisia. Ora capite perché viene chiamato il paradiso bianco e blu. Un bacio dalla Tunisia! Grazie! 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 Grazie!